Tre acquisti under per mister del canto ceduto invece a titolo definitivo Benucci. Sono stati infatti ufficializzati i trasferimenti in amaranto di tre ragazzi dell'Empoli, si tratta dell'attaccante Andrea Zini, del regista Mancino e Davide Buglio e della mezzala Davide Zampella, tutti e tre nati nel 1998 e dunque ventenni. L'attaccante Zini e il regista Buglio arrivano a titolo definitivo, la mezzala Zappella invece in prestito. Il centrocampista retino del Valdarno, Massimiliano Benucci, fa invece il percorso inverso e approda il club empolese, ma quest'anno resterà comunque nell'organico amaranto. Ad Arezzo arriva poi anche l'attaccante Matteo Bruno Risandri, 24 anni da compiere, proveniente dal Parma anche se lo scorso anno ha giocato in Serie D nel Villa Biagio, una squadra Umbra firmando 23 reti. Salgono così a sei acquisti portati a termine dalla società in questa fase iniziale di mercato. Negli ultimi giorni erano stati infatti ufficializzate anche le operazioni in entrata riguardanti il difensore danese e il trequartista Stefanec. In arrivo invece dalla Fiorentina il terzino destro Luca Mossi, classe 1998, nato a massa e oltre che nelle giovanili De Viola ha giocato anche con la squadra della sua città. Sempre dalla Fiorentina arriveranno un altro due giovani e trattative sarebbero in corso anche con l'Inter per uno o due under. La stagione 2018-2019 della società sportiva Rezzo prenderà avvio ufficialmente sabato 14 luglio, quando la squadra di Mister del Canto si ritroverà alle 11 allo stadio per poi effettuare due sedute di allenamento tra il pomeriggio e la domenica mattina. Sabato sera cena con orgoglia Maranto e i tifosi ed infine domenica pomeriggio partenza per Bagni di Romagna per il ritiro. Grazie. Grazie.